Partite! Per linee interne si mantiene in vantaggio Pelandron nei confronti di Charlie e Boy all'esterno con ancora più a largo vento nei capelli. Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Pelandron che si mantiene in vantaggio con ridosso Charlie e Boy. Quindi vento dei capelli per linee interne anche Sopran de Blu, poi segue Placido d'Arcadia, ancora Silver Chef e gli altri. Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Pelandron che conduce davanti a Charlie e Boy. Quindi per linee interne Sopran de Blu con vicino Placido d'Arcadia, poi Guagira Guanta, ancora vento dei capelli con in schiena Silver Chef. Siamo a 450 dal palo, Pelandron sta allungando nei confronti di Charlie e Boy e Sopran de Blu. Più indietro a centropista Guagira Guanta con a largo in recupero Silver Chef. Siamo a 200 dal palo, è passato Charlie e Boy nei confronti di Pelandron, a centropista cerca di rimontare Silver Chef. Nel tratto finale ha preso il tempo Charlie e Boy che nel finale mantiene la meglio. Silver Chef appariglia sul palo per il secondo posto Pelandron, a quarto Guagira Guanta. Allora, vinto Charlie e Boy assolutamente a sorpresa alla 19... numero uno dello schieramento a segno a sorpresa in questa Maiden per tre anni, terza corsa di Agnano. Al posto d'onore è il favoritissimo Silver Chef che dovrebbe sul palo avere preso la meglio nei confronti del numero sette Pelandron. Quindi uno nove sette, il probabile ufficioso arrivo della terza di Napoli.